Gemella della Toyota Verso S, cambiano fari, paraurti e pochi altri dettagli, è una monovolume compatta con doti di spazio e abitabilità per 5 persone. Ottima come seconda vettura per i subaristi a motore 1.3 benzina o 1.4 diesel, ampio il bagagliaio da 429 a 1.388 litri abbattendo il divano posteriore. La Tresia mette subito a proprio agio i passeggeri grazie alle portiere dall'apertura molto ampia e alla seduta posizionata a 61 cm da terra, mentre la posizione di guida è quella tipica dei monovolume compatti con volante e cambio molto pratici da azionare. La qualità percepita è buona grazie alle ottime rifiniture. L'abbiamo provata con il 1.3 benzina da 99 cavalli che si fa apprezzare per la regolarità e tirando le marce non disdegna prestazioni brillanti. I prezzi partono da 15.980 euro della 1.3 benzina fino ai 21.480 euro della Tise in versione più ricca.